Importanti novità per quanto riguarda Photoshop e questa caldissima estate. Andiamo a scoprire insieme tutte queste nuove funzioni. Ciao a tutti e bentornati. Oggi vedremo delle nuovissime funzioni di Photoshop, alcune che sono state migliorate, altre che sono state confermate. Ma prima di tutto vi chiedo gentilmente di andare a iscrivervi al canale per potermi supportare e vedere altri video come questo. E se avete bisogno di ulteriori chiarimenti ricordatevi che ci sono sempre a disposizione le mie lezioni private sia dal vivo che online. Ma andiamo subito a vedere cosa porta di nuovo il nuovo aggiornamento di Photoshop. Partiamo dalle cose più semplici che è il testo. Facciamo una selezione o meglio un'area di testo. Qui abbiamo il testo con lo stesso colore dello sfondo. Lo andiamo a cancellare e scriviamo ad esempio Photoshop a capo Tutorial e poi a capo Novità. Tre parole totalmente a caso. Ma cosa succede adesso? Se le seleziono tutte insieme e vado qui su Attiva, Disattiva i pannelli, Carattere e Paragrafo. Ho questa paletta, questa disposizione delle caratteristiche del mio testo e posso andare a scegliere Paragrafo. Vedete che qua sono apparse due nuove opzioni. Quindi andiamo di nuovo a selezionare. Possiamo mettere i puntini per creare un elenco di questo genere oppure addirittura i numeri per creare un elenco numerato. Quindi una cosa molto semplice ma sicuramente molto utile. Un'altra cosa che è stata aggiunta è la possibilità di mettere le regolazioni che già c'erano prima, però questa volta su Regolazioni singole abbiamo anche tutte queste opzioni. Ripeto, nessuna novità, sono state solo aggiunte qui e potrebbe essere un pochettino più comodo. Ma andiamo un po' più alla sostanza perché è stato introdotto il nuovo pennello di selezione. Ora, se andiamo un'altra volta sul pennello, abbiamo a disposizione questa prima presentazione che dice effettuate selezioni con tratti di pennello singoli o multipli, ideali per gli utenti di trackpad, quindi chi ha il portatile, e per aggiungere e rimuovere contenuti con riempimento generativo, quindi anche per l'intelligenza artificiale. Ora, la prima volta che l'ho visto ho avuto la sensazione che fosse uno strumento un po' inutile, cioè un'unione di alcuni strumenti in un unico pennello. Ora, potrebbe già essere utile così in realtà, però poi ho notato che c'è un'altra piccola differenza che fa parte di questo nuovo strumento. Infatti, se andiamo a fare una selezione, vedete, nel momento in cui lascio, lui la riempie automaticamente. Cosa succede? Ad esempio, vado a riempirlo con il nero e nel momento in cui prendo qualsiasi altro strumento, ecco, vedete, ho la selezione attiva con il nero dentro il mio livello. Ripeto, messa così può sembrare una banalità, però se, ad esempio, noi andiamo sempre sul pennello di selezione, abbassiamo l'opacità, ad esempio un 30%, vedete che già cambia qualcosa, perché posso fare una selezione, vedete, che è più trasparente, e poi farne anche un'altra che si va a sommare con la precedente, perché è 30 più 30, quindi questo sarà un 60%. Questa è ancora una selezione attiva, quindi, se vado a mettere il nero, cambio lo strumento, ecco qui, vedete che mi dà la possibilità di avere una selezione che si interseca con le due che ho appena fatto, ma soprattutto ho due aree che sono pitturate di nero al 30%, mentre qui si sommano. Potrebbe essere interessante questo, soprattutto se usate Photoshop per la grafica. Un'altra cosa interessante che si può fare è andare direttamente su un'immagine e usare questo pennello di selezione con opacità abbassata. Prendiamone una, ecco, vi ho risparmiato tutta l'apertura e l'inserimento del livello, andiamo a prendere di nuovo il pennello della selezione, e in questo caso possiamo selezionare anche in maniera molto grossolana tutto il soggetto. La selezione andrà a chiudere da sola l'area mancante, e poi chiedere ad esempio all'intelligenza artificiale di fare un effetto pastello, oppure, meglio ancora, un effetto dipinto. Vediamo che succede. Vedete che con il 30% dell'opacità ha cercato di mantenere l'aspetto originale del soggetto facendo un effetto dipinto. Vedete che qua è molto più spennellato. Andiamo a vedere le altre opzioni. Certo, l'immagine è un po' cambiata, però l'effetto c'è, cosa che non avremmo potuto avere sicuramente con il pennello al 100%. O comunque avremmo avuto un altro risultato. Torniamo adesso indietro, buttiamo questo livello, e andiamo a vedere cosa succede quando c'è la barra contestuale associata a uno strumento che stiamo utilizzando. Perché la barra contestuale è stata introdotta negli ultimi tempi. Stiamo parlando di circa un anno, però è stata sempre più migliorata. Prendiamo ad esempio lo sfondo, lo ripitturiamo tutto di bianco, e inseriamo una forma. Prendiamone una a caso. Ecco, vedete che la barra adesso ha assunto le proprietà del strumento che stiamo utilizzando. Quindi possiamo andare a cambiare il bordo, ad esempio, farlo un po' più spesso, cambiargli colore, oppure il riempimento. E la stessa cosa avviene quando inseriamo altri soggetti. Possiamo avere altre opzioni qui, oppure altri strumenti con particolari proprietà. Anche questo è un aggiornamento minore, ma andiamo a vedere le cose più importanti, la parte più succosa di questo video, sulle novità di Photoshop. Torniamo alla nostra immagine con questa bella ragazza. Ci avvaliamo di nuovo del pennello di selezione. Questa volta lo facciamo più piccolo. Torniamo al 100%. Selezioniamo in maniera anche abbastanza grossolana la maglietta. Il pennello andrà da solo, ripeto, a riempire tutta l'aria. Ecco qui. Ovviamente andiamo a cliccare sul livello 1 per avere tutte le modifiche su di esso e ci scriviamo camicia blu. Ha un po' interpretato in realtà, comunque non fa niente, perché diciamo che ci piace questa. La novità che vi voglio far vedere è che ovviamente questo è un tipo di ricostruzione che ha una qualità un po' più bassa rispetto al resto della foto. Quindi lasciamo un po' lo zoom e vediamo che qua è stato inserito ufficialmente il migliora dettagli. Ora ho cliccato, Photoshop sta migliorando, ecco qua avete visto la differenza. Questo è prima e questo è dopo. Tutto molto più definito. Certo non è come un'immagine scattata dalla propria fotocamera, ricordiamocelo sempre, però è sicuramente meglio rispetto a prima. Quindi un migliora dettagli veramente molto utile. E per ultimo andiamo a vedere finalmente l'intelligenza artificiale con la generazione delle immagini. Cosa che più o meno si poteva fare già prima, ma questa volta è stato inserito direttamente questo strumento genere immagini che ci apre un pannello dedicato che si basa tutto su Firefly 3. Quindi la nuova tecnologia di Adobe per avere e creare delle immagini ex novo partendo proprio da un foglio bianco con delle caratteristiche da poter selezionare. Quindi ad esempio andiamo su foto, immagine di riferimento, noi potremmo pure prendere qualche immagine da qua o addirittura caricarla noi, ma non è questo il caso. Potremmo scegliere un effetto, ad esempio effetto a fresco perché noi andiamo a creare un paesaggio. Quindi un tramonto sulle montagne con un lago. Ho fatto una descrizione anche abbastanza basica. Vediamo come riesce a interpretarlo. Guardate che bello. Sembra quasi una fotografia vera e propria, c'è addirittura il taglio di luce del sole. Andiamo a vedere la successiva. Bellissima anche questa. Questa addirittura con un effetto tramonto molto più marcato. E anche questa non è affatto male. Ovviamente qui non c'è miglior a dettagli perché è una funzione dedicata solamente a esempi come quello che abbiamo fatto prima. Però possiamo fare veramente tantissime cose. Torniamo un attimo sul pernello di selezione. Prendiamo quest'area e vediamo come fa a rinteragire tutti questi nuovi strumenti. Qui ci scriviamo cavallo. Semplicemente. Vediamo che succede. Molto bene. L'ha fatto sia in proporzione sia più o meno con la stessa luce. Andiamo a vedere altre opzioni. Anche queste molto interessanti. Ha sempre ripreso la luce proveniente direttamente dal sole. Quindi un ottimo risultato abbastanza veritiero. Quindi una serie di nuove funzioni veramente molto interessanti. Che vi consiglio di andare a provare. E fatemi sapere come vi siete trovati scrivendomi qui sotto nei commenti. Ricordo di iscrivervi al canale. Di mettere mi piace se il video vi è stato utile. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao.